Oggi ragazzi siamo con i nostri amici Ninna e Matti, più caso purtroppo raga Più caso, come se siamo così quello lì scadente, capito? Sì esatto, proprio lui Perché andremo a fare una nuova challenge Con la macchina della verità con scossa Ha paura così Scusate, aspettate un attimo Cioè, seriamente volete farci giocare con quella cosa? Sì Ha 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 È che il problema, io non mi sono fatta male alle mani Sì, sì, fa vedere un po' le mani Adesso sono proprio curioso No, dall'altra parte Dall'altra parte No, no, qui il palmo così Dai, non trovate scuse ragazzi Non fa così male la macchina della verità Adesso, sì, diciamo che dà una scossa abbastanza forte Però state tranquilli, al massimo, al massimo perderete la mano No, l'importante è dire la verità e non avere la scossa Eh, diciamo Ragazzi, un piccolo problema Mi hanno detto che ogni tanto questa macchina è difettata E quindi ragazzi, caso, c'è una piccola possibilità Che anche se dite la verità Diciamo che vi dà la scossa comunque Vabbè, non è un gran problema Non è un gran problema Ragazzi, mi sono dimenticata Devo andare Ciao Dove? No, 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 no Dove? No, 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 no Vieni qui, Ninna, vieni qui Te devi fare la prova come tutti gli altri Non fare la fifona, Ninna Ragazzi, ci siamo Siamo tutti e quattro davanti alla macchina della verità E io direi di fare un bel giro di prova Allora, prima di tutto decidiamo qual è il giro Inizia, caso No, 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 no Tutti in accordo No, so che la mente si inizia dalla sinistra alla destra Appunto, e loro vedono dalla sinistra alla destra No, ma questo effetto Non hai proprio la possibilità di cambiare Non hai nessuna scelta Allora, prima di tutto raga Impostiamo la macchina della verità In modalità corrente Metti la mano Bravo bambino Non iniziare già a tremare Perché se non l'abbiamo nemmeno Stai tranquillo che non dà la scossa Forse Io ho paura Iniziamo con la prima domanda per Kazoo La fatta Giuseppe Di Benedetto su Instagram Mi raccomando Ciao bambino E la domanda è Hai mai avuto pensieri strani su K? Ma che domanda è? Scusa, viene No, vai Assolutamente Avviamo la macchina Ma se prendo la scossa ti giuro che sta cosa è una cinza Secondo me sta mentendo Secondo me sta mentendo Oh, è uscito il verde È uscito il verde, doppio verde Oh, inizia già a fare la musichetta Kazoo Io rega questa la vedo proprio una scossa Io questa la vedo una scossa Sto tremando Sto tremando Quindi qual è la tua risposta Ma come te l'hai stata una scossa? Ma che dici? Ma non ho avuto pensieri strani su K? Non è vero Raga No, ma io non lo faccio Io non lo faccio la gara A me sembra che K? Ok, abbiamo capito No Abbiamo capito che sta cosa non funziona No, no, no Se questa cosa non funziona Oppure che mi è stato d'accordo prima con K? Scusa un attimo Adesso parliamo di cose serie Che pensieri hai avuto su di me? Eh, fatti Che sono curioso Giusto Che sei uno stupidino K? Prossima domanda Riferita a me rega Abbiamo Hai mai baciato un maschio? Domanda di Riki Mokan Bella Riki Allora Io dico no Perché non ho mai baciato un maschio Secondo me che c'è Ma pure io l'ho visto Ma cosa? Oh rega Chiediamo alla macchina della verità Oh Oh cacchio No, no, no No, no No, rega No, rega Mi sto agitando Toccami così la prende anche te No, no No, no No, rega Se mi dà la scossa Oh, se mi dà la scossa Ah, ho preso Ho preso Sì, aspetta, aspetta Aspetta Ma fa male Ma chi ho baciato? No, no, no Ma che dici? Ma non funziona Quale maschio hai baciato? Caso Gossip ragazzi Questo è uno scoop assurdo No, rega Non è vero Più giuro che non è vero Cioè perché dovrebbe Non funziona Oh mio dio Terza domanda Tocca a Mattiz Desa ti chiede Hai mai preso Un brutto voto Per poi averlo nascosto A tua madre? Oh, oh Matti Ma non è vero Non ci crede nessuno Matti Ma poi non ci crede nessuno Matti L'hai fatto oppure non l'hai fatto Intanto posiziona pure la mano Ovviamente la mia L'hai scopo stendo Sì, sì Sono proprio curioso Chiediamolo un po' Che ansia Che ansia Che ansia Che ansia Raga, dalla sua volta Si capite che c'era un'ansia Devi tenere la manina Tieni giù la manina Spingi Spingi Ho un'ansia Ho un'ansia assurda Ho un'ansia assurda Oh Assolutamente no Raga Non mi sono nascosto Ma hai la sensazione più brutta Che la mia vita Questa Ora non ti vai fare Scusa Ma spiegami che voto hai preso Le mie dita hanno fatto Quindi quanti brutti vuoi ti hai preso e nascosto a tua madre Non posso dare queste risposte Mamma di Matti non guardare questo video Grazie Oddio Fa madre? No Round di Ninna Questa volta per la quarta domanda Dobbiamo Che si stava No, no, no Ha cambiato modalità No Rimettigli la modalità scossa Rimettigli la modalità scossa Vai Te la metto io Ok Vai La modalità scossa appoggia la manina No, no No, no Cacco non lo faccio Non hai capito Metti la manina Ok Metti la manina Ninna Giulio ti chiede Hai mai scoreggiato e dato la colpa al tuo compagno? L'hai mai fatto? No Vediamo un po' che dice la macchina della verità Sono proprio curioso Raga, secondo me Ninna è una furfantella Tra l'altro io e Ninna andavamo in classe insieme Quindi potrebbe Non l'ho mai fatto? La colpa a me Effettivamente no Vediamo un po' Forse quando tu eri assente Matti D'anzi Adesso vedate che la macchina della verità sta per Attenzione Non l'ha fatto Sei l'unica che non ha mentito Ed è una forza chiotta lei Come Si è messa d'accordo con la macchina della verità Sì, sono quasi sicuro Sono quasi sicuro che si è messa d'accordo Ninna è capace di fare queste cose Sì, sì, sì Secondo me Riker l'ha fatto Votate con sotto dei commenti scrivendo Hashtag sì se secondo voi l'ha fatto Oppure hashtag no Se Ninna è una brava ragazza Domanda di Elena Non per Casu ma per tutti noi Chi è che si lava di meno? Raga, io so già la risposta a Casu No, io, io Ma quando Io vedi meno Matti Lo vedi per me Matti si prende nascosto Allora Matti qua dicono che sei quello che si lava di meno tra tutti noi E io vi dico che non è vero E la macchina della verità lo confermerà Ok Oh Io non sono Me lo sto dicendo Io non sono Adesso lo chiederemo alla macchina della verità Ehi, ve l'ho detto Lo sapevo che era Casu No, 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 capo È Casu No, è Casu Non sono certo Licenza ha detto la verità perché Cioè io ho detto che lui è quello che si lava di meno Quindi ha detto la verità Ah, è vero E lui è quello che si lava di meno Tu hai affermato che sei quello che si lava di meno Sì, però io non voglio star vicino Ma io non l'avevo detto qui Siamo... Va bene, andiamo avanti Nessuno mi crede Per Casu Hai mai marinato la scuola? Domanda di Pietro Uh, è voglia Appoggia pure Vabbè, ragazzi Aspetta Penso che se la macchina della verità dice Gli dà la scossa Sta mentendo la macchina della verità Appunto Cioè se adesso vi devo dire Questo è un test per vedere se la macchina della verità funziona oppure no Ah Non è vero Non è vero Ho marinato la scuola Mamma lo giuro No, sto scherzando Ragazzi questa cosa non funziona Mamma lo giuro che ha marinato la scuola Domanda di Alessia Hai mai detto una grande bugia ai tuoi amici? Vediamo un pochettino Io dico di no Una grande bugia non l'ho mai detta Magari questa risposta a tutti gli effetti Una bugia Zitti 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 L'altro giorno lui ha detto in casa che è intelligente Aspetta 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 La macchina della verità dell'alberdetto Mi dà la scossa sicuro Non senti già il cappi di scossa Ma le mani tutte le palestate L'avevo detto io Mannaggia Ma poi è bruttissimo Perché Sì è una sentenza di orribile Sembra già vibrare Sì sì infatti È una sentenza di veramente orribile Sì Ninna Ti farò una domanda veramente cattiva Ricky ti chiede Hai mai baciato un maschio? Ahimè Sì Non tu Un altro Vediamo Ninna Quindi se ci sarà la scossa vuol dire che ha baciato solamente Matti Se non ci sarà vuol dire che ha baciato un altro ragazzo Se non c'è la scossa vuol dire che ha baciato un altro Ok Ok pronti? Iniziamo Oh Questa è veramente cattiva Sono proprio curioso di sapere cosa non c'eravamo Questa è veramente cattiva Oddio Due, tre secondi Due secondi Un secondo Niente Ragazzi Niente Ha baciato un altro Ha baciato un altro Bravamente No 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 Questo video finisce qui Adesso risolviamo pure questa questione